Come un pugno allo stomaco che ti lascia senza fiato, un colpo in pieno volto che ti scuote, ti sveglia da un torpore in cui sei calato, il torpore dei luoghi comuni, delle frasi fatte. Questo è l'inizio di Romeo e Giulio, lo spettacolo andato in scena al teatro Bertolt Brecht di Formia. Scritto da Sofia Bolognini con le musiche di Dario Costa, porta in scena l'amore omosessuale, cercando di sfatare i luoghi comuni, coinvolgendo lo spettatore, portandolo al centro della scena, anche grazie ad una scenografia molto minimalista, fatta soprattutto di luci e musiche che accompagnano gli attori, esaltandone le performance. Un terreno ostile in cui convivono intemperanza politica e ostinazione teatrale. È un'architettura indecente, un ordigno sonoro compatto e irreversibile, che procede per scansioni ritmiche e partiture vocali, strappi, cadute, aggressioni, fino all'autodistruzione. Una tragedia che nega se stessa nell'atto di compersi, una drammaturgia piena di fantasmi moderni, feroci, uno scandaloso viaggio teatrale che indaga tra il bisogno di amare e quello di essere amati. Nel mezzo della catastrofe sociale in atto, Romeo e Giulio esegue una miticolosa ed insostenibile autopsia del conflitto identitario-sessuale, di appartenenza civile. Elaborato sui lati sociologici, politicamente agguerrito, teatralmente composto e deforme, è un vero e proprio piano di disturbo della guiette artistica e della buona coscienza nazionale. Il tema, strettamente attuale e difficile da affrontare, senza rischiare di cadere nel banale, è trattato con delicatezza, ma allo stesso tempo con la forza di un tornado, che scuote le coscienze, apre mente e mille pensieri, e prova a fare braccio in una società che tende a ghettizzare, a racchiudere i sentimenti, dentro dei cliché prestabiliti. Romeo e Giulio vuole squarciare quel velo di finto bonismo che avvolge la nostra società, quel velo fatto di ipocrisia che fa apparire solo ciò che si vuole far apparire, come in uno spettacolo dove il pubblico assiste, senza coinvolgimento, a quello che gli attori portano in scena. L'opera di Sofia Bolognini va vista, osservata ed ascoltata, con la mente libera e senza pregiudizi, pronti a lasciarsi coinvolgere e a tratti sconvolgere, ma con l'animo di chi vuole andare oltre le apparenze e vedere cosa c'è dietro l'angolo. Allora, io credo che uno spettacolo come Romeo e Giulio, per via delle tematiche assolutamente attuali e a mio avviso importantissime per il nostro paese, è importante che venga portato non solo nelle grandi città come Roma, ma anche che abbia la possibilità di girare un po' ovunque. Lo spettacolo parla di unioni civili, è uno spettacolo che denuncia l'omofobia in maniera anche molto forte, quindi ritengo che veramente oggi più che mai poter avere la possibilità di esibirsi in un teatro di una città che comunque è una città più piccola e se volete meno esposta magari a quello che è il dibattito artistico che si crea piuttosto nelle grandi città, sia una cosa di fondamentale importanza. È un dono per noi molto grande. Siamo curiosi della risposta del pubblico di Fornia. Dicevamo uno spettacolo che tratta di temi strettamente legati all'attualità. Come risponde normalmente il pubblico davanti a questi spettacoli e a queste tematiche? Allora, diciamo che la distinzione di cui stava parlando Sofia è assolutamente puntuale, nel senso che ci sono realtà in cui si è un pochino più abituati anche a ricevere certi messaggi, anche in maniera forte, perché comunque lo spettacolo ha una comunicazione, diciamo non è teatro di parola, è un teatro più fisico, un teatro più performativo. Di conseguenza il modo di presentare certe tematiche, di parlare di certi argomenti è anche, se si vuole, più diretto della parola, perché è ancora più di impatto con la fisicità e con il corpo. Quindi il pubblico dipende, dipende. Noi per ora abbiamo avuto delle risposte, chiaramente appunto grazie al successo che c'è stato a Roma, delle risposte molto positive. Non solo, abbiamo avuto anche delle risposte positive, sicuramente in generale, dal pubblico, dalla stampa, però abbiamo avuto anche degli episodi, insomma, di boicottaggio, dove ci è stato detto esplicitamente no, non vogliamo il vostro spettacolo, perché se parla dei gay noi non vogliamo assolutamente appoggiarlo, quindi stiamo già ricevendo un po' di... Beh, sicuramente trattando argomenti, diciamo così, difficili, la possibilità e il rischio di un boicottaggio ci può sempre stare, forse la nostra società non è ancora pronta a ricevere messaggi del genere. Del boicottaggio io sono fiera, quindi... Scherzo, è chiaro che è uno spettacolo che provoca, però secondo me provoca nel modo giusto, cioè provocare può essere anche qualcosa di assolutamente stupido, a mio avviso Romeo Giulio è una provocazione intelligente. Una provocazione che fa riflettere? Pone delle domande, se poi si riflette sta, insomma, all'efficacia anche che può avere o meno lo spettacolo, quindi noi ci auguriamo che possa anche far riflettere, sicuramente pone delle domande. Questo spettacolo dopo, dicevamo, i sold out di Roma è stato anche invitato a partecipare al Festival Internazionale in Macedonia, giusto? Esatto, sì, abbiamo avuto questo grandissimo onore di essere contattati dalla Macedonia per rappresentare l'Italia con il nostro spettacolo là, al Festival Internazionale del Teatro di Scopie e francamente non vediamo l'ora perché ovviamente anche lì sarà un'ulteriore prova, già questa formiana è una grande prova, là vedremo anche lì come risponderà il pubblico e tutti gli altri giudici e quant'altro, però ci interessa di più il pubblico che i giudici, questo sicuramente. Gianluca Paolisso, una sfida tua quasi personale di portare questo spettacolo a Formia? Sì, sì assolutamente, io personalmente da attore ci tenevo tantissimo che questo spettacolo approdasse nella mia città per i motivi di cui ha già parlato Sofia e anche Dario. Da attore penso che sia fondamentale uno spettacolo del genere, proporre uno spettacolo del genere e ovviamente io parlo del mio ruolo, dal punto di vista attoriale è stato meraviglioso sperimentare quanto temi del genere possano contribuire alla crescita umana e artistica di chi poi va ad affrontare un'interpretazione del genere. Le interpretazioni di questo spettacolo sono tutte molto, molto forti e quindi almeno per quanto mi riguarda è stato inevitabile crescere con loro, con i miei colleghi, quindi sono veramente, veramente felice che questo spettacolo sia approdato nella mia città e mi aspetto che la città si schieri da questo punto di vista che prendono una posizione netta e non a caso ci aspettiamo non solo la presenza di pubblico ma mi auguro, cosa che accade di rato, purtroppo anche la presenza di qualche autorità, io me lo auguro, è importante, molto importante. Al di là dell'aspetto strettamente legato a questo spettacolo nello specifico, anche le piccole realtà, Roma sicuramente ha un bacino di utenza molto più ampio e ha anche una serie di strutture che sicuramente danno spazio all'attività creativa e culturale. Nei piccoli centri sarebbe auspicabile la presenza di strutture che dessero spazio alle giovani compagnie teatrali? Penso che da questo punto di vista possano rispondere anche Dario e Sofia ma penso di parlare anche a nome loro. è necessario, è fondamentale, è vitale, di vitale importanza che ci siano degli spazi per le giovani compagnie che contribuiscano alla crescita delle nuove compagnie. Parliamoci chiaro, chi sta portando il teatro avanti in questo momento in Italia sono le nuove generazioni di teatrali off cioè che hanno pochi mezzi ma che nonostante tutto continuano a proporre nuova drammaturgia, nuove possibilità di messa in scena. Da questo punto di vista penso che possano dire qualcosa anche Dario e Sofia ma è fondamentale almeno per quanto mi riguarda. Peraltro sicuramente magari nei piccoli centri è anche più difficile ma comunque anche a Roma come penso veramente in tutto il nostro paese per le giovani compagnie che non hanno amicizie, non sono figlie di, non sono nessuno, non hanno mezzi è comunque una lotta continua proprio all'ultimo sangue, è una sfida ogni volta. Io credo che veramente un'altra dei punti di forza di Romeo e Giulio è che è stato un lavoro condotto con onestà condotto fino in fondo con onestà da persone che non avevano nulla e che tutto quello che hanno ottenuto l'hanno ottenuto con le loro forze facendo un lavoro vero, un lavoro onesto, un lavoro profondo. persone umane, ci tengo anche a fare i nomi proprio dei nostri attori che sono state delle persone straordinarie perché persone che hanno dato tutto, hanno dato il loro tempo, hanno dato il loro corpo, hanno dato la loro emotività fino in fondo pur sapendo che non avevano tra le mani una produzione miliardaria, non avevano nulla l'avevamo noi, io e Dario, che siamo così, siamo due giovani, abbiamo... ecco, i nostri attori, ci tengo a dirli tutti quanti, sono Aurora Di Gioia, Riccardo Averaimo, Nicole Petruzza, Mauro De Maglio e Andrea Zatti. Persone che io ringrazio con tutto il mio cuore e Gabriele Olivi che ringrazio con tutto il mio cuore. Gianluca Faulisto che avete conosciuto, oh non mi mettete in imbarazzo, tutto ciò è stato possibile grazie a loro, grazie all'unione di forze.